Musica Musica Igreja cattolica sul Governo ha messo con alcuni e ci lui ha fatto welche benefice ai povos Musica Arcebispo Arcebispo Archidiocese Metropolitana Deló न Rattoni esigenciane, tambahare la situazione reale, ne be daudone, povo timor-leste e enfrenta. Lio liu con abafalta, bemos, elettricità e no estrada la diac. Tambahane domvergili do Carmo da Silva e CDB. Russo governo, autodebate, orsamento, geralistado, tina rihondrua, ruanurure, sinrua, ne rodiac. Non ne bele a saipovo, russiteros, no muquit. Quando italau e a fatimbarak, itahare, desenvolvimento, ne, cidau, itah dejangkata que si daldok toho, itah debela derrangkata, itah ne melke se reniar, as leu arrias remotas. Itah ba serra lerek ba estrada, serra lerek ba Bemos, serra lerek ba elettricidade. Itah ia fatihira ne beh anesandili, na fatihira selu, itahare kata boazirneare, ma è be, te ne melke ne beh, fear ne beh, ovo, tau ba e hetane naio lunsira, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti.